ciao oggi parliamo di sali minerali quanto sono importanti questi sali minerali quali sono contenuti nel cibo quali sono carenti nel cibo e che conseguenze comporta per il nostro metabolismo in meetup abbiamo il pallino di darti una integrazione personalizzata come già hai sentito ripetere tante volte correttamente però dobbiamo anche andare a vedere per ciascuno degli elementi che servono a far funzionare il metabolismo quant'è l'importanza qual è l'urgenza e qual è il motivo per cui abbiamo scelto di dare integrazione nei nostri prodotti allora i sali minerali sono di diverso tipo c'è ovviamente il cloruro di sodio che probabilmente è quello che viene usato e consumato in maggiori quantità ma quello di solito non lo integriamo nei nostri prodotti se non magari nel my mineral quello che ha a che fare con la sudorazione perché quando si suda si espelle un sacco di sodio di cloruro di sodio quindi va integrato ma è un caso speciale anzi di solito le persone tendono a mangiarne anche troppo nell'alimentazione e quindi questa cosa qui non è una roba da mettere su tutti gli integratori penso ti sia chiaro vero altra categoria importante di sali minerali che vanno integrati sono il magnesio e il calcio i sali di magnesio e i sali del calcio questi contribuiscono tantissimo a svariate funzioni metaboliche insieme al potassio che vedi qui diciamo che calcio magnesio sodio e potassio costituiscono dei minerali che vanno usati in grande quantità dalle persone infatti abbiamo un prodotto che si chiama mycalmagd che contiene oltre alla vitamina d anche il calcio e magnesio calmag e ci vuole dell'ambiente acido perché questi vengono assorbiti calcio spesso ne usiamo tanto nell'alimentazione ma avendo poco magnesio non lo assimiliamo granché insomma ci sarebbe da approfondire ma non è lo scopo di questo video qual è lo scopo di questo video invece è di parlare dei minerali in traccia cioè di tutti gli altri minerali di cui il corpo in teoria ha un gran bisogno anche se ne ha bisogno in quantità estremamente ridotte rispetto agli altri che ho nominato poco prima d'accordo ora questi minerali spesso vengono traspurati e vengono anche derise le persone che dicono che questi minerali sono importanti perché dicono cosa vuoi che servano perché ne servono talmente pochi che basta l'alimentazione per trovarli e questo non sempre purtroppo è vero mannaccia il problema è questo cioè a te di magnesio di sodio potassio serve una certa quantità e magari è difficile trovarla su certi cibi e così via ma se anche hai bisogno di un sale molto meno importante come quantità e non lo trovi mai nella tua alimentazione perché è carente il cibo che mangi caspita quello comunque ti causerà una carenza e un problema al metabolismo in base ai dati della metabolomica lo studio dei metaboliti all'interno del corpo umano quindi lo studio del metabolismo sappiamo che i terreni dovrebbero contenere circa 92 minerali quindi il terreno dovrebbe contenere 92 minerali che ovviamente ti trovi poi nella coltivazione ti trovi nell'erba ti trovi nella nella pianta di cui mangi i frutti e così via ecco questi 92 minerali dovrebbero essere presenti su tutti i terreni e questi minerali vengono prodotti per la maggior parte da processi di fermentazione cioè quindi ad opera dei microorganismi che abitano la terra il problema invece è che spesso nei terreni quasi sempre a causa delle colture intensive che non danno tempo al terreno di dare origine ai nuovi prodotti fermentati ai nuovi minerali abbiamo un terreno sterile su cui non cresce praticamente nulla allora cosa fanno gli danno il concime gli danno i fertilizzati ma non gli danno 92 minerali gli danno il minimo indispensabile per far sì che le cellule vegetali di quello che pianti del seme che pianti nel terreno si replichino si moltiplichino altrimenti non cresce veramente nulla e questo è fatto strano di solito questi fertilizzanti vengono indicati con la sigla NPK NPK non sono altro che i simboli chimici dei tre elementi più importanti N, azoto, fosforo, P e potassio, K quando mandiamo nel terreno almeno quei tre benedetti minerali può avvenire la replicazione cellulare e il seme cresce da origine di una pianta senza di questo non crescerebbe nemmeno però non ci sono tutti i 92 minerali quindi dicevo cresce sì qualcosa ma piuttosto vuoto non completo di tutti i minerali che dovrebbero esserci conseguenza quello che mangiamo è vuoto di minerali qual è il problema che se guardi questo questo bellissimo schema che ormai non so me ne sono fatto una gigantografia l'ho appesa in studio perché è la cosa più importante probabilmente scoperta negli ultimi vent'anni risale al 2007 del progetto metaboloma cioè hanno tracciato dalla prima all'ultima tra le reazioni chimiche che avvengono all'interno del corpo ognuna di queste reazioni chimiche ha bisogno di minerali così come ha bisogno di vitamine variate altre sostanze per avvenire il problema ecco te la ingrandisco un pochino vedi ogni pallino è una metabolita cioè una sostanza che partecipa a una reazione chimica e ogni linea o curva è una reazione chimica che trasforma una sostanza in un'altra questo è il metabolismo questa è la mappa del metabolismo ognuna di quelle righe ognuna di quelle linee ha bisogno di un enzima o più enzimi per avvenire e quindi ha bisogno di vitamine amminoacidi e sali minerali in poche parole non è che questi 92 minerali ce li siamo inventati noi sono una necessità per il corpo dov'è che andiamo a prendere questi sali minerali di cui ha bisogno il corpo? una delle fonti migliori sono i laghi o i mari essiccati che si trovano in giro per il pianeta alcune aree del pianeta sono praticamente il risultato di alcuni mari che si sono essiccati si sono prosciugati e hanno lasciato sul fondo uno strato di sale estremamente ricco di minerali opportunamente lavati purificati ed estratti da questa sostanza troviamo proprio quei minerali di cui ha bisogno il corpo se non sono 92 sono 80 e qualcosa e quindi diciamo che riusciamo a sopperire a gran parte delle nostre carenze nutrizionali nei nostri prodotti noi mettiamo un po' di questi sali minerali quasi dappertutto consideralo come dire una specie di regalino ci costa un euro a barattolo magari metterlo dentro e non possiamo neanche tanto pubblicizzarlo perché se tu vai a prendere un prodotto specifico con questi sali dentro ne esistono ma tu prenderesti una pastiglia una capsula che ha dentro solo quello e sai ogni volta che mandi giù una capsula ricordati che mandi giù anche degli eccipienti dei rivestimenti e delle cose che non centrano con la nutrizione e mica tutti sono attenti come noi a non buttare dentro dei distaccanti o degli eccipienti che siano sali che siano sani non è così scontato infatti ci sono delle vere e proprie porcherie nel mercato quindi il fatto che volevo sottolinearti adesso è che abbiamo inserito in moltissimi prodotti quasi tutte le pastiglie un pochino di questi sali minerali quindi tu senza neanche accorgertene stai compensando ad ogni pastiglia che assumi anche le carenze dei 92 minerali che mancano alle coltivazioni terrestri praticamente questo è un problema che riguarda tutto il pianeta in particolare ce n'è parecchio anche nel My Minerals insieme ad altre cose e quindi questo ovviamente riguarda l'integrazione di sali di uno sportivo o di qualcuno che sta sudando e quindi a maggior ragione gliel'abbiamo messo dentro anche lì il mix di minerali volevo fartelo notare perché credo che questa presenza di questi minerali non fosse così ovvia e siccome non possiamo fare una gran pubblicità con grandi fanfare per ognuno dei tantissimi elementi che ci sono dentro i nostri prodotti perché sennò cosa ti devo dire il My Energy contiene 45 elementi ci metto una settimana a spiegarti di tutti il My Total Health contiene 145 elementi ci metto un mese a spiegarti di tutti quindi ti dico questa cosa a mo' di bonus perché in effetti prendendo i nostri integratori gradualmente vai a compensare e a integrare anche questa carenza nutrizionale spero che questo video ti sia piaciuto e se hai altre domande ti prego contattaci con qualsiasi mezzo possibile siamo qua per rispondere alle giuste domande e i giusti dubbi che avete in testa quindi approfittatele ciao e al prossimo video ciao 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 ciao